hello guys ben ritornati di nuovo con l'utenza salve salve a tutti che prima mi ha fatto un bel 2 al 0 stranamente stranamente però vabbè mica si convince sempre io rollo in tanti dati e diciamo il match sempre edison con sempre hopless dragon yes vado prima io battanzato già sempre edison con me che parto per uno stavolta giocando sempre hopless dragon con le mani di merda non è vero vado vai ok vabbè che devo riprendere il mazzo però ok ok questo è un bel problema anche qui anche il quinto io devo andare proprio un'altra bestiola beh questo è il male certo come dice lei come dice lei dai un'imanda al chelsea grazie ok eee eee m2 face oh mi cazzo no vabbè ma fai tu eee mettendo un tocneee un tocneee un tocneee puoi andare posso? certo ok vabbè vabbè quindi vado a questa app io risolto vabbè vabbè poi vado a questa app vabbè vabbè aaaaaah ti fai l'absoluto zero ebbe si vanno vedere eccolo qui posso registrare come prima che un'acqua è unito giusto sti pupazzi cacacazzo di me ecco lei va bene prego vivi scarto un livello 8 di costo messo due carte bene vado collegate una per meravigliosità non solennone solennone stai un pensare un pensare devo giocare più calmo più incassato carta in mano una una sola dell'occhistone che è pieno certo effetto di un drago effetto di un drago nel frattempo che attivi quell'effetto lì attivo questa catena sono il catena che è il calore è il calore tu hai 4.000 si gg ci sono 3.000 ok eh si perfetto 3.000 5.800 8.800 ciao va bene va bene va bene spiegate bene qui gioco io l'onesto in mano no no e quella è la mia paura l'onesto in mano ti porta l'oreccio l'onesto in mano magari onest to be onest ma manco tanto qui ma sai che ma io proverrei una cosa porca è vero è vero è vero Eh devo togliere quattro è un bel casino da me, tra l'altro ne vedevo uscire. Faccio musica. E' pronta? E' pronto! Mario! Il meme di Mario. Hi Mario! Spam in chat. Mario! Ecco lei. Oi 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 oi. Preparati per questa vittoria. Tecnica del Piantito che abbiamo già spiegato in uno dei video precedenti che vi consiglio di andare a vedere, ossia lamentarvi di qualcosa e poi appunto questa cosa viene risolta grazie a lamentare. Mmmmm. 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 Ehm. Cosa dice il nostro amico Mario? Passi io! Passo! Com'è che ti dico? Non me ne frega proprio! Che! Ivy Store! Va bene questo! FUTURE FUSION. Va bene così. E' già il pupazzo di merda assurdo. Sì, senza mai finta di niente. Fai vedere quello che stai facendo. Ah, bravo. Tiè. Vabbè, ci ho giocato prima. Vabbè, ma che c'entra. Vabbè, vaffanculo, vaffanculo. Eh, vota l'è nata su. C'hai ragione, ma sì, chi ce frega. Esatto. Che c'è in porte. Sai che ti dico pure. Mh, mh. Che bello. Perfetto, questi cazzo. Spacco. Va bene. Oh. Picchio 2 e 8. 2 e 8. Setto 1. Va bene. Un end. No. Stiamo più... sì. Ok. Vai. Vado? Vado. In vista. Va bene. Va bene. Questa è a 5 e 2. Questa è a 5 e 2. Cold wave. Non per attivare le carte magie. Lo tappo. La fine del tuo prossimo tour. E nemmeno più. Che stronzo. Mmmh. Sono proprio 5.600 questi. Attacchi. No. No. Vado un po' più sicuro. Faccio evo. Vado. Evochi. Che evochi. Si va bene. Tanto. Si sa che è persa. La vendetta. Va bene. Va bene. Va bene. Questo dove? Oh. Sto giro fa... Quanto è una carta buona però eh. Sto giro ho menato io il chiantillo. Al contrario. Al contrario. Al fine del video di prima. Pure dai video. Beh ragazzo. Io vi ringrazio di aver guardato sempre il video fino a questo punto. Come al solito se vi interessano i contenuti retroforma edison. TempPlant. Hat. Got. Si spera al futuro. E anche Hat. Iscrivetevi al canale. Unbox anche se non disponibile. In periodo. Di vari box con piccole guide appunto di varie retroforme. A te. I migliori prodotti in merito a edison. Caso che stiate interessati agli acquisti di qualcosa. Trovate tutto in descrizione sul mio canale per l'appunto. E arrivederci e al prossimo video. Ciao ragazzi. Next time. I draghi sono belli.